Abbiamo capito quanto definire un business model efficace e corretto sia essenziale per chiunque abbia voglia di fare startup. Ma quali sono i tipi di business model? Ecco i 12 tipi di business model più diffusi. 1. Transazionale 2. Marketplace 3. Software as a Service, SaaS, modello basato sulle iscrizioni 4. Freemium 5. Pay as you go 6. Noleggio o leasing 7. Franchising 8. Broker 9. Community 10. Affiliazione 11. Modello basato sulle inserzioni 12. Donazione Transazionale Quando la maggior parte delle persone pensa a un business, immagina un'azienda che vende prodotti o servizi. Questo significa che il modello di business da loro scelto è quello transazionale. Il business model transazionale consiste nella classica vendita di un servizio o prodotto in un negozio oppure su un e-commerce. Banalmente in questo caso i ricavi derivano dalle transazioni che avvengono tramite l'acquisto di ciò che tu vendi. Questo modello è in realtà abbastanza ampio e può comprendere uno o più altri modelli di business. Il vantaggio principale è la flessibilità, o meglio, la mancanza di restrizioni. Puoi creare qualsiasi prodotto tu abbia voglia e decidere come promuoverlo. Questo business model è tipico nei negozi fisici e negli e-commerce. Marketplace Un modello di business basato sul marketplace consiste nell'ottenere ricavi tramite la intermediazione tra due parti. Si tratta di fare l'intermediario tra un utente e un altro utente, o tra un'azienda e un'altra azienda, trattenendo una percentuale di ricavi per ogni transazione. Devi offrire la possibilità di vendere sul tuo marketplace a numerosi venditori che poi competono tra loro per fornire il loro prodotto o servizio a prezzi competitivi. Se decidi di applicare un business model come quello del marketplace, devi costruire il tuo marchio su fattori come fiducia, trasparenza e qualità. Il classico esempio lo sono eBay e Amazon Marketplace, ma anche Airbnb o Uber. Software as a Service, SaaS, modello basato sulle iscrizioni Il modello di business basato sulle iscrizioni viene generalmente utilizzato da start-up di software o basate su app. Per questo motivo si chiama anche Software as a Service, software come servizio. Anziché offrire il tuo proprio prodotto come un acquisto unico, puoi utilizzare questo modello per ricevere pagamenti mensili. Il vantaggio principale di questo modello è l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti che rispetto ad altri modelli di business è più semplice. Invece di richiedere un sostanziale investimento iniziale, questo modello facilita la decisione di acquisto con un costo iniziale relativamente basso. La maggior parte delle persone accetta più facilmente di pagare 5 euro al mese rispetto a 50 euro subito. Per quanto riguarda invece la fidelizzazione dei clienti, se questi apprezzano il servizio che stai fornendo, non avrai bisogno di fare altro per convincerli a rinnovare l'abbonamento. Un esempio di questo modello di business è Netflix. Freemium Il modello di business Freemium consiste nell'offrire un prodotto gratuito, rendendo altre funzionalità aggiuntive esclusive per gli utenti premium, per coloro che pagano. È importante offrire un prodotto principale che sia gratuito ma che abbia anche funzionalità limitate. Solo passando alla versione premium si sbloccano gli altri vantaggi. Il fascino di questo modello di business è che i clienti possono vedere e sperimentare il servizio gratuitamente, senza alcun rischio. Quindi, molte più persone saranno propense a scoprire cosa hai da offrire. Devi però essere estremamente persuasivo. Convincili che i vantaggi di passare a un utente premium sono enormi e ne vale la pena. Devi trovare l'equilibrio perfetto tra ciò che fornirai gratuitamente e ciò che renderai disponibile solo ai clienti paganti. Un esempio di questo modello di business è Spotify. Pay as you go Il modello di business Pay as you go consiste nel far pagare al cliente il servizio in base all'utilizzo che ne fa. Maggiore e più prolungato è l'uso, maggiore sarà anche il prezzo. Il vantaggio di questo modello di business è la possibilità di far pagare al cliente solo quello che usa, personalizzando l'offerta e dandogli modo di usare il prodotto come e quando vuole in base alle sue esigenze e possibilità. Questo metodo è usato per esempio da Amazon per i suoi servizi Cloud Web Services oppure dai servizi di core sharing dove si paga in base all'utilizzo del mezzo di trasporto. Noleggio o leasing Il leasing è basato sul noleggio di prodotti o servizi molto costosi ottenendo ricavi sugli interessi con margini elevati. Questo modello di business è adatto a quelle startup che offrono beni che non tutti possono permettersi in quanto troppo costosi. ShareNow e Enjoy, per esempio, utilizzano questo business model. Franchising Un franchising è un modello di business in cui si dà la possibilità a una terza parte di usare il tuo marchio e il modello di vendita. In questo modello di business esiste una relazione legale e commerciale tra tu che sei il proprietario della marchio e l'individuo che decide di usarlo, l'affiliato. In altre parole, l'affiliato è autorizzato a utilizzare il nome commerciale e i sistemi operativi rispettando il modello imposto. In cambio dei diritti di utilizzo del modello, per vendere il prodotto o il servizio e ricevere formazione, supporto e istruzioni operative, l'affiliato paga una franchigia, nota come royalty. L'affiliato deve anche firmare un contratto, accordo di franchising, che accetta di operare in conformità con i termini specificati nel contratto. Un franchising agisce essenzialmente come una singola filiale della startup. Per esempio Miss Cusi e McDonald's usano questo modello di business. Broker Il broker sfrutta la distanza fisica tra i venditori e i loro clienti. Si basa sul fornire una piattaforma in cui acquirenti e venditori possono entrare in contatto, facilitando le loro interazioni. La società gestisce le loro transazioni e garantisce la sicurezza. Le entrate in questo modello di business sono generate applicando piccole commissioni alle transazioni. L'esempio più noto è PayPal che consente a due parti di trasferire denaro in modo sicuro, ovunque si trovino nel mondo. Community La creazione di una community può essere anch'essa un business moral. Magari non l'unico ma sicuramente non trascurabile. Creando un community generi prima di tutto un senso di appartenenza all'interno della stessa e fiducia e valore a chi guarda da fuori. In questo business moral il guadagno deriva da un abbonamento o da un pagamento una tantum che l'interessato deve pagare per entrare nel gruppo. Affiliazione Un altro popolare modello di business sul web è il modello dell'affiliazione. Funziona promuovendo collegamenti a prodotti pertinenti, riscuotendo commissioni sulle vendite e può persino lavorare in combinazione con annunci o separatamente. Uno dei vantaggi più evidenti di questo business moral è che generalmente genera più ricavi rispetto ai modelli basati sulla pubblicità. D'altro canto, se decidi di usare questo modello per la tua startup, ricorda che la quantità di denaro che guadagni è limitata alla grandezza del tuo settore, ai tipi di prodotti che vendi e al tuo pubblico. Modello basato sulle inserzioni Il modello di business basato sulle inserzioni pone le sue fondamenta sull'idea di fornire un prodotto o un servizio gratuito e fare affidamento solo sulle entrate pubblicitarie. Sebbene in alcuni casi sia estremamente efficace, per avere successo e iniziare a guadagnare abbastanza con questo modello di business, devi avere una vasta base di clienti o pubblico. In sostanza, i profitti in questo modello provengono da inserzioni pubblicitarie fornite da altre aziende o marchi. Questo può avvenire sotto forma di clic o visualizzazioni fornite o inserendo i loro annunci sul tuo sito web. La linea di fondo qui è Più persone riesci a raggiungere, maggiori saranno i tuoi profitti. Un chiaro esempio è YouTube che gran parte dei suoi ricavi li ottiene mostrando gli spot prima del video, mantenendo così un servizio gratuito. Donazione Il modello di business basato sulle donazioni prevede che gli utenti contribuiscano al valore fornito e che siano loro a decidere quanto il tuo servizio valga. Questo modello viene spesso combinato con altri modelli di business e di entrate per creare una soluzione definitiva per l'utente e un giusto guadagno per la tua startup. Per esempio, Wikipedia ha un modello di business basato sulle donazioni.